Nella giornata nazionale a loro dedicata, protagonisti appunto gli alberi, quelli piantati a Milano e a Firenze e quelli monumentali. Sacri guardiani del nostro tempo svettano maestosi nelle campagne sulle alture del nostro paese. Tra tutti è la Quercia delle Streghe, la vincitrice del concorso degli alberi monumentali di quest'anno, indetto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. La foto di quest'esemplare secolare in Toscana, accompagnata dalle caratteristiche e dalle leggende che la circondano. Sul podio anche la roverella di San Vito, che mostra il suo carattere maestoso in Campania. Alberi secolari, con il loro tempo lungo nel respiro della natura, come questo pioppo del Colle del Tufo in Molise. Anche in quest'anno impegnativo e travagliato, l'occasione della giornata nazionale degli alberi è stata preziosa, per ricordare l'importanza e la forza della natura che attraversa la storia e resta lì, superando ogni ostacolo. Pioppi, abeti, faggi, esemplari ultracentenari dal valore inestimabile, che vengono curati, difesi, osservati dagli acrobatici esperti dell'organizzazione Giants Tree Foundation. Esperti in grado di spostarsi agilmente tra i rami di foreste vigorose, che stabilizzano il clima e sostengono territori e popolazioni che convivono con loro. Sempre oggi a Firenze, 1.330 alberi sono stati piantati e associati ai bambini e bambine nati o adottati nel 2020. A Milano, messe a dimora, 114.000 piante, di cui 28.000 in città, dove per il progetto del Comune di Milano il patrimonio arborio è arrivato a 500.000 alberi.